Da oggi parte una fase nuova perché noi stiamo lanciando un piano strategico che crea una cornice di programmazione unitaria tra i diversi rami dell'amministrazione che contribuiscono a creare turismo. Quindi insieme al turismo ci saranno le attività produttive, l'agricoltura, i beni culturali, le infrastrutture e l'ambiente perché il turismo non nasce semplicemente come rilevazione delle presenze turistiche, ma è fondamentale che si guardi lo sviluppo socio-economico della nostra regione e quindi è necessario che si mettano a fattore comune tutti i sistemi. Questo piano strategico del turismo è allineato su cinque precisi assi, ognuno dei quali avrà una sua articolazione. Noi ci siamo dati un traguardo 14-20 strategico per arrivare alla Sicilia che vorremmo nel 14-20, ma c'è un piano trennale 2015-2017 per le azioni di immediata cantireabilità che metteremo avanti con gli indicatori di quali sono i sistemi di sviluppo economico che vogliamo far crescere. Quindi la Sicilia fa rete? Sicilia finalmente fa rete, anche perché senza la rete il turismo non esiste, quindi non solo sinergia tra i diversi rami dell'amministrazione e un'unica pianificazione rispetto a tutte le azioni sempre di marketing territoriale che in maniera separata nel passato l'agricoltura e i beni culturali, il turismo hanno fatto, o un'interfaccia diretta con le infrastrutture che poi sono il soggetto che permettono l'accessibilità all'isola. Ma intende fare rete con questo processo anche con tutto il sistema di stakeholders e quindi col partenariato. Noi oggi presentiamo una bozza che non abbiamo ancora fatto nostra, daremo un mese al partenariato per dare i loro contributi motivati e dentro una cornice di analisi di contesto che abbiamo fatto e poi lo faremo nostro con un'approvazione in giunta che responsabilizza tutto il sistema di governo verso l'attuazione di questa politica.